E' stato conquistato dal calore della tifoseria biancorossa, Sergio Almiron, centrocampista argentino del Bari, ha trovato nell'entusiasmo dei tifosi la giusta linfa per riacquistare stimoli e fiducia nelle sue capacità tecniche. L'espulsione è rimediata a Firenze e costringerà Almiron a saltare il big match con l'Inter in programma sabato prossimo al San Nicola. Non sarà una partita facile, però se riusciamo a entrare concentrati con la motivazione giusta credo che il Bari possa fare una grande partita. Poi il risultato speriamo bene. Io sto bene, io mi trovo molto molto bene, però come ho detto prima, siccome ancora sono tutto il cartellino e della Juventus e devono parlare con loro. Brutte notizie per Andrea Ranocchia, le visite specialistiche hanno confermato la lesione parziale del crociato anteriore del ginocchio destro. L'operazione chirurgica è dunque inevitabile. Il giovane difensore potrà tornare in campo solo a maggio. Le difficoltà causate dagli infortuni e dalle squalifiche però non preoccupano Rivas che ostenta sicurezza in vista della sfida contro i campioni d'Italia. Come sarà la partita con l'Inter? Certo che dura, ci stiamo allenando per cose, stiamo lavorando. Dopo la sconfitta domenica veramente uno dispiace quando sta un po' abituato che venivamo da vincere. Uno si tira un po' giù, però è passato quindi adesso vediamo l'Inter.